Schrödinger è colui che ha inventato, oltre ad essere famoso per la sua equazione d'onda, l'equazione d'onda di Schrödinger, importantissima in meccanica quantistica, è famoso per il suo paradosso del gatto. Ma che cos'è questo paradosso del gatto? Perché Schrödinger si è tirato fuori questo Gedanken Experiment, così si chiama, in cui c'è un gatto che è vivo e morto allo stesso tempo, cosa vuol dire tutto ciò? Ebbene, cerchiamo di capire da dove nasce l'idea di Schrödinger. La meccanica classica, quindi quella che arriva fino alla teoria della relatività per intenderci, che coinvolge tutto il macrocosmo, descrive perfettamente il macrocosmo, ma non descrive il microcosmo. Questo è un problema, è il problema cruciale che implica la meccanica quantistica. Perché? Perché il microcosmo invece è spiegato dalla meccanica quantistica. E il punto è che ai fisici non piace questa cosa per la quale ci servono due leggi diverse, o meglio, due interpretazioni diverse del macro e del microcosmo. Il macrocosmo sottostà alle leggi della fisica classica e della relatività. Il microcosmo sottostà alle leggi della meccanica quantistica. In pratica potremmo dire che nel microcosmo non c'è nulla di certo. Non possiamo dire con certezza se succede una cosa o un'altra. Cioè va a gambe all'area invece uno dei capisaldi della visione della fisica classica, cioè il determinismo. Che cos'è il determinismo? Non è nient'altro che il credere che è qualcosa che io vedo, che io misuro. Se conosco le misure giuste, per esempio la quantità di moto e la posizione, cioè la velocità, detto in parole povere perché la quantità di moto non è nient'altro che la massa per la velocità. Quindi la velocità e la posizione di una particella, posso sapere da dove viene questa particella e dove va questa particella. Cioè se in ogni istante io conoscessi, questo dice il determinismo, ogni particella dell'universo, quindi teoricamente se conoscessi tutte le particelle del cosmo, allora potrei descrivere l'intero universo non solo sapendo che cosa c'è prima, quindi da dove viene tutto, ma anche dove va. Quindi determinismo, in questo senso, la legge di causa-effetto è perfettamente applicabile a qualsiasi situazione. Ebbene, nel microcosmo non è così. Non vige il determinismo, ma vige l'indeterminazione, che è appunto uno dei principi fondamentali della meccanica quantistica. Voi l'avrete sicuramente visto scritto in questo modo. Questo è il principio di indeterminazione di Heisenberg, che dice che semplicemente la precisione nella misura della posizione moltiplicata per la precisione nella misura della quantità di moto sono inversamente proporzionali. Più sono preciso nel misurare qual è la posizione di una particella nel microcosmo, meno posso dire la sua quantità, la sua velocità. Quindi o scelgo di misurare la sua posizione o scelgo di misurare la sua velocità. Questo è sostanzialmente. Quindi, come capita bene, è ben diverso dal determinismo che viene fuori dalla fisica classica. Ora, questo vuol dire che c'è una dicotomia tra il micro e il macrocosmo. Cioè c'è una discontinuità, meglio ancora. Questa discontinuità come la si risolve? Beh, i fisici la risolvono in vari modi. Uno, per esempio, dicendo che le particelle che comprongono il macrocosmo sono innumerevoli e quindi tutta quell'indeterminazione che vige nel microcosmo, nel macrocosmo non esiste più perché i numeri sono talmente grandi che ciò che era probabile, solo probabile, diventa praticamente certo. Quindi non possiamo escludere che è impossibile, ad esempio, che una particella, che un pallone attraversi un muro, non lo possiamo escludere al 100%, diciamola così, ma è talmente certo che è talmente bassa la probabilità che lo faccia, che è praticamente impossibile. Perché invece l'effetto tunnel prevede che una particella si supera una certa quantità di energia, può superare una certa quantità di energia in uno dei suoi stati e quindi può superare una barriera di potenziale, di energia potenziale. e quindi passare al di là di una parete, se volete mantenere il paragone. E inoltre il fatto che la massa cresca, essendo Q, se voi vedete questa espressione, Q è uguale a massa per velocità, essendo la quantità di moto legata alla massa, quando siamo nel microcosmo la massa è talmente grande che siamo ben lontani dalle scale di Planck, ricordiamo che la costante di Planck è circa 6 per 10 alla meno 34 Joule per secondo, quindi diciamo una quantità minuscola rispetto alle quantità che noi possiamo considerare. Quindi quando la massa è abbastanza alta non c'è più un'indeterminazione in una delle due misure e quindi non ci può essere perché le misure sono troppo grandi, detto in parole in soldoni è questa roba qua. Ma Schrödinger, ma questo non risolve il problema, cioè non risolve il fatto che per il microcosmo servano delle leggi diverse che per il macrocosmo, almeno questo non era sufficiente a Schrödinger, non si accontentava. Allora ha inventato questo congegno in cui ha messo insieme il macro e il microcosmo. Il macro e il microcosmo messi insieme generano un paradosso, ecco quello che ci vuol dire Schrödinger. Dunque qual è il paradosso fondamentalmente? Iniziamo a vedere che cosa succede per esempio se io lancio delle palline e sono nel macrocosmo, delle palline da tennis, ho due, il famoso esperimento della doppia fenditura, quindi ho una parete con due fenditure e poi una parete finale, recettiva diciamo. Se io lancio le palline da questa parte che attraversano le due fenditure, chiaramente le palline si concentreranno in due zone ben precise. Quindi ci sarà un accumulo di palline in due zone. Io posso seguire pallina per pallina dove andrà a finire da questa parte o da questa a seconda della fenditura in cui passa. E questo il mio guardare il fenomeno o non guardarlo perché se io mi giro dall'altra parte diciamo così o se faccio questo esperimento al buio il risultato sarà identico. Io avrò un accumulo di particelle in corrispondenza della prima fenditura e un altro in corrispondenza della seconda fenditura, a seconda del fatto che la pallina sia passata in una fenditura o in un'altra. Ma cosa succede nel microcosmo? Nel microcosmo la questione è leggermente diversa. Perché? Perché se io ho una parete che riceve e lancio due particelle, esattamente come prima lanciavo le palline da tennis, adesso lancio per esempio degli elettroni, degli elettroni, quello che succede è che qui non si forma una figura come prima ma si forma una figura di interferenza. Cioè si formano delle zone di accumulo di palline e delle zone di minore accumulo. Cos'è che spiega questa roba? Il comportamento ondulatorio della materia. Cioè se io qua ho delle onde che si sviluppano di qua e di qua, qua avviene un fenomeno dell'interferenza, tipico fenomeno ondulatorio. Cioè le onde si possono sovrapporre e se si sovrappongono in fase raddoppiano la loro intensità. Se si sovrappongono invece in controfase, in questo modo qui, si annullano. Ora dove si sovrappongono in controfase, detta in soldoni, abbiamo l'ombra. Invece dove si sovrappongono in fase, quindi interferenza costruttiva, abbiamo la luce. Interferenza costruttiva luce, interferenza distruttiva ombra. Questo è quello che succede nel caso delle particelle. Allora ai fisici è venuto un dubbio. Facciamo lo stesso esperimento ma mettiamo un rilevatore per vedere se la particella passa qui oppure qui. Perché evidentemente se io in questo esperimento faccio questo giochino, se la particella passa in una delle due fenditure, quello che succede è che si deve accumulare da una parte o dall'altra. E in effetti quando accendo il rilevatore che mi dice la particella è passata qui, io la vedo qui, quando il rilevatore che si trova anche solo in una delle due fenditure non si attiva, evidentemente la particella si mostra sulla destra, quindi nella parte destra dello schermo. E alla fine di tutto ciò c'è un accumulo di particelle a destra e a sinistra e non c'è più nessuna figura di interferenza. E che vuol dire? Praticamente che il fatto che io abbia misurato questa roba qui ha cambiato l'esperimento stesso. Ma la domanda è, allora, se si è comportata così vuol dire che le particelle non sono ombre, quindi hanno una doppia natura. Questo è il punto critico, è quello che a Schrödinger dava fastidio. Ma a Schrödinger dava fastidio una cosa ancora diversa, ovvero se io lancio una particella alla volta e non osservo dove passano, che cosa succede a questa particella? Cioè, se io lancio tante particelle contemporaneamente posso avere questo fenomeno dell'interferenza come avevamo prima. Ma se io lancio una particella alla volta, beh, una particella alla volta deve passare o in una fenditura o nell'altra fenditura. C'è poco da fare. E quindi se io lancio un elettrone alla volta, anche se ne sono nel campo del microcosmo, questa particella, se passa di qua, si accumulerà qua, se passa di qua, si accumulerà qua. Questo è quello che pensano bene i fisici quando fanno questo esperimento. Ebbene, quello che succede è che se io non osservo il fenomeno, pur lanciando, attenzione, una particella alla volta, quello che succede è che c'è una figura, si forma una figura di interferenza, comunque, anche lanciando una particella alla volta. Come si spiegano i fisici questa situazione qui? E i fisici se la spiegano dicendo la particella ha percorso entrambi. Di fatto è come se avesse percorso entrambi le fenditure contemporaneamente. Cioè la cosa folle è che quindi è un incrocio, se volete, tra un comportamento particellare e un comportamento ondulatorio. Perché anche se fosse vero, cioè la critica fondamentale è questa qui, anche se fosse vero che c'è un'interferenza. Se lancio più particelle, magari interferiscono tra di loro, anche se le vedo come particelle. Ma se la lancio una alla volta, com'è possibile che si formi un fenomeno, una figura di interferenza esattamente come quella ondulatoria e non una figura di questo tipo, che è quella che ci saremmo aspettati se una particella viene messa alla volta? Ora, davanti a questa situazione, è qui che si innesta il paradosso di Schrödinger, ok? Cioè, per Schrödinger questa visione è assurda, credere che le particelle abbiano una doppia natura, eccetera, eccetera. Per Schrödinger quello che succede è semplicemente che qui si manifesta in pieno la natura ondulatoria delle particelle. E il fatto che qui non si manifesti è dovuto al fatto che la nostra osservazione fa collassare l'onda a particella. Ma non è che è una vera particella, è un'onda collassata, e quindi è un'onda concentrata. Quindi, se guarda il fenomeno, per Schrödinger c'è questo collasso. Ma siccome invece la visione, questo non spiega alcuni altri fenomeni, per esempio l'effetto fotoelettrico, che è un tipico, o l'effetto Compton, che sono tipici fenomeni particellari della luce, allora anche la spiegazione di Schrödinger non è sufficiente. Tuttavia, Schrödinger non amava la spiegazione di Bohr e Heisenberg, che è quella che potete trovare appunto nel video sulle tre fondamentali interpretazioni della meccanica quantistica, ma aveva bisogno di chiarire questa, di far emergere i paradossi in questa roba qui, cioè nel fatto che la microcosmo avesse una doppia natura e fosse l'intervento dell'osservatore a cambiare la realtà, cosa che non succede assolutamente nel macrocosmo. Quindi, se non osservo il fenomeno, questo è il comportamento. Se, scusate, se osservo il fenomeno, questo è il comportamento. Se non osservo, è quest'altro. E allora, cosa fa Schrödinger? Si inventa questo meccanismo nel quale sono presenti una parte microcosmica, che non è nient'altro che un emettitore di radioattivo, e una parte macrocosmica, che invece è il gatto. Allora, dice Schrödinger, supponiamo che qua ci sia una particella che viene emessa al 50% di probabilità di essere emessa. Ora, se io non guardo l'esperimento, questa particella cosa fa? Viene emessa e non viene emessa, visto che la probabilità è il 50%, viene emessa e non viene emessa contemporaneamente. Perché se è vero quello che abbiamo detto qui, quello che succede qui, cioè che anche lanciando una particella alla volta, queste percorrono entrambe le fenditure, vuol dire che la particella è concessa di affrontare tutte le possibilità. Questa roba poi darà adito a un delirio di interpretazioni come quella dei molti mondi, cioè ogni volta che una particella può biforcare, si creeranno due universi, uno da una parte, da una parte la particella è passata, dall'altra parte non è passata. Ok? Ma, a parte questi deliri, diciamo, mentali, Schrödinger invece vuole evidenziare il paradosso che sta dietro il fatto che una particella possa passare in due fenditure contemporaneamente. Se la particella che viene emessa, cioè per esempio un decadimento beta negativo, quindi un elettrone ad alta velocità, viene emessa, questo meccanismo attiva la rottura del veleno e il gatto muore. Se non viene emessa, il meccanismo non si rompe, il meccanismo non si attiva, il veleno non si rompe, il gatto è vivo. Ma se noi teniamo chiusa la scatola e non guardiamo dentro, dovrebbe succedere esattamente la stessa cosa che succede qui, cioè che la particella passa in entrambe le fenditure che detto nell'esperimento di Schrödinger vuol dire la particella attiva e non attiva contemporaneamente il veleno e quindi il gatto muore e vive contemporaneamente. Questa è la critica fondamentale del gatto di Schrödinger e cosa succede se poi apro la scatola? Se apro la scatola il gatto di Schrödinger dovrebbe vivere, cioè o morire. In quel caso in quel caso la mia il mio la mia misurazione fa collassare le due possibilità che erano rimaste entrambe valide a una delle due. Cioè è come dire che quando metto l'osservatore cioè in questo caso il detector del passaggio dell'elettrone allora il comportamento è questo qui quando non lo metto il comportamento è quest'altro e quindi lui dice se io guardo dentro la scatola faccio collassare la possibilità la probabilità che era del 50% a una delle due. quindi capite che è un paradosso è un paradosso che cosa? Il fatto che se io non guardo dentro la scatola il gatto sarebbe vivo e morto allo stesso tempo perché è come se il meccanismo si fosse azionato e non azionato contemporaneamente. questa è la sostanza del gatto di Scherl unire macro e microcosmo nello stesso esperimento ha dato vita a un paradosso che è una critica alla visione fondamentalmente di Copenhagen e tutte quelle che prevedono che nel microcosmo una particella ha una doppia natura che dipende anche da noi cioè dalla scelta che facciamo di guardare o non guardare dentro la scatola.